Ci pensa sempre lui, Ciccio Leone, a scaldare i tifosi e a far svoltare certe partite scomode. Ieri, contro il Dagata, un'altra doppietta, poi la rete di Pellegrin a chiudere la pratica, a consegnare altri tre punti ad un vittoria che si arrampica a quota 25 e vede la zona playoff abbastanza nitida. Non è stata sicuramente la miglior prestazione dei Biancorossi, i quali, dopo il pari ospite, l'hanno messa sulla forza e la velocità e alla fine sono stati premiati col 3-1, che non fa una piega. Vince anche il Ragusa contro il Belvedere nell'anticipo di sabato, seppur a fatica, e mantiene il punticino di vantaggio sul Paternò, il quale, a raffica nel derby contro il Città di Catania, è andato a passeggio. Prezioso pare a reti bianchi, invece, per il Santa Croce sul campo dell'Atletico, con gli Etnè che si sono staccati dalla coppia di testa e adesso sentono sul collo proprio il fiato degli uomini dilucenti. Col pace esterno inoltre del Marina, masca Lucia 3-1, alla stregua del Megara, vittoriosa noto con un rotondo 4-1, hanno infine pareggiato 2-2 Trecastagni e Aquele Calatine, escluso dal campionato l'Adrano, che ieri ha dato forfe per la quarta volta, e domenica prossima il Vittoria, che dovrà affrontare gli Etnè fuori casa, rimarrà fermo un giro.